Ciao, sono Fabio Sarabella, dallo stand di Music & Lines, sponiamo qui all'ISIA 2013. Vogliamo farvi conoscere il nostro prodotto, il LED Compass 8mm, che è un nuovo display che presentiamo in occasione di questa fiera, è un display pitch 8mm outdoor. La particolare di questo schermo è lo schermo a più alta risoluzione P65, è un passo 8mm, la luminosità arriva fino a 4800 litri e lo rende appunto un prodotto unico del suo genere. Inoltre, presenta caratteristiche hardware che lo rendono un prodotto unico sul mercato, appunto per la possibilità del montaggio in configurazione curva, sia concavo che commesso, più o meno 18 gradi, ed inoltre il montaggio molto veloce, appunto senza l'utilizzo di nessun tipo di strumento, solitamente con l'utilizzo delle mani, ed è studiato in maniera tale che anche un operatore in maniera autonoma possa svolgere operazioni di montaggio e di re-kick. Possiamo vedere anche appunto il sistema meccanico a molla, che lo rende in assoluto un prodotto più veloce e più semplice da montare nella sua categoria. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web dove troverete anche dei video dimostrativi del prodotto e di esempi di montaggio e di applicazioni. Grazie per l'attenzione!